ok buongiorno a tutti grazie per essere venuti così in tanti alla mia presentazione sto studiando italiano oggi imparata le parole che mi servono quando gioco mia tua destra sinistra passa tira dammela lassila sto molto bene qui grazie presidente caro grazie a tutti voi e scusate se oggi rispondo ancora in inglese alla vostra domani un applauso italiano ci vuole